Grazie ai nostri inviati sul campo, semplici cittadini alla caccia libera, espressione di informazione sempre attivi, ci giunge un filmato su uno spiacevole episodio accaduto nella giornata odierna nei pressi dell'abbazia di Rosazzo in comune di Manzano dove alcuni imbecilli o esseri sottonaturali a cui il cervello è stato procreato al posto sbagliato hanno pensato bene di oscurare con sistemi fascisti di matrice sovietica la libertà di informare la cittadinanza sull'imminente referendum consultivo per la fusione tra i comuni di San Giovanni a Natisone e Manzano. La denuncia filmata arriva a pochi giorni dalla consultazione popolare che dimostra ancora una volta come le menti occulte radicate nel Consiglio dei Dieci Assenti sia ancora oggi capace di indottrinare a dovere i propri adepti. Da tempo chi vi parla rimarca il fatto che i tarli o carui sono riapparsi di nuovo sotto forma di umanoidi a due zampe fedeli di yes men a cui scoccia il cambiamento perché le novità non sempre sono gradite a coloro che per decenni hanno esercitato su entrambi gli schieramenti il potere temporale dunque oscurare per non imbonire il popolo sovrano? Da queste parti i patriarchi sono ancora attivi ma anche per loro il countdown è scoccato.